Buonasera, posso chiederle un video sull'installazione delle zanzariere in una casa in affitto? Il proprietario è obbligato a metterle nel momento in cui nel quartiere non venga effettuata disinfestazione e vi sia un evidente problema con le zanzare dentro l'appartamento? Grazie mille per questa interessante domanda, la risposta è no. Il conduttore, ovvero l'inquilino, una volta firmato il contratto, non può pretendere l'installazione di zanzariere o di qualunque altro tipo di accessori se ciò non era espressamente previsto nel contratto stesso, anche se il comune non ha provveduto alla disinfestazione. Il conduttore quindi dovrà rimediare in altro modo al problema delle zanzare, ad esempio con dispositivi mobili, o, se vuole installare le zanzariere, dovrà farlo a sue spese. Può farlo anche senza il consenso del proprietario, ma una volta terminato il contratto, dovrà rimuoverle al fine di lasciare l'immobile nello stato in cui l'ha ricevuto, come appunto prescrive la legge, oppure, col consenso del proprietario, lasciarle dove si trovano. Detto questo, il conduttore può certamente chiedere al locatore se è disposto a installare le zanzariere e il locatore valuterà se farlo, magari per, in qualche modo, premiare un conduttore con cui ha buoni rapporti. Tanto alla fine le zanzariere rimangono nell'appartamento e potranno magari rendere più agevole la locazione al successivo inquilino. Ovviamente queste sono valutazioni del tutto personali che possono quindi cambiare da locatore a locatore. Molto bene, questo è tutto. Cosa ne pensate di questa legge? È giusta o andrebbe cambiata? Come sempre vi ringrazio tantissimo per i vostri contributi. Alla prossima!